Buongiorno a tutti, sono Benedetta Magnesa e sono dottorando del terzo anno in scienze biomediche e biotecnologiche presso l'Università di Udine. Durante il percorso formativo dei tre anni di dottorato, sotto la supervisione del professor Grassi e della dottoressa Comelli, mi sono occupata di valutare in soggetti obesi sottoposti ad esercizio fisico le dinamiche della bioenergetica mitocondriale attraverso l'utilizzo di tecniche di respirometria ad alta risoluzione. Questo studio ha permesso di valutare i possibili effetti benefici dell'esercizio fisico dal punto di vista fisiologico e di valutare allo stesso tempo i miglioramenti sulla funzionalità mitocondriale nei soggetti obesi coinvolti in questo studio.